Fra le gare superstiti di questo campionato, dilaniato dal crudele Covid-19, spicca la sfida sulle sponde del Sinni, il fiume che, cinque secoli orsono, contemplò il dolore della giovane poetessa Isabella Morra, tra Francavilla e Bitonto, che significa anche e soprattutto certame affascinante fra due degli allenatori più navigati del girone, Lazic e Ragna. E sappiamo che stima e ammirazione uniscono Nicola Arranco, il Galantuomo, il Wenger di Puglia, da quindici anni sulla panchina dei Rossoblu e antico sodale del Corso Accoverciano. Sarà l'ennesima prova per capire a che punto è la crescita del gruppo, se l'amnissia letale che domenica scorsa ha portato al pareggio in controgioco il lavello di Zeman Junior è stata metabolizzata e se questa scalata, in vero non facile, alla vetta occupata dal battistrada Sorrento è fattibile oppure no. In vista dell'impegno in terra lucana, dallo spogliatoio arrivano notizie dolce amare. Il funambolo taurino è in recupero e potrebbe essere in campo. Rottura del crociato invece per Palmisano, calciatore serio che mi porterei ovunque e la carezza del tecnico, che ne avrà per 4-5 mesi. Sentiamo dunque come ha preparato la truppa il nocchiero moffettese, che tornerà a guidare i suoi dalla panca dopo il turno di squalifica. Con la consapevolezza, come al solito, andremo lì per fare la nostra partita, cercando di sfruttare un po' la qualità che abbiamo e soprattutto l'abbiamo preparato in una maniera tale da poter fronteggiare questa squadra. Dulcis in fondo, la gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della società e i cuori neroverdi palpiteranno tutti dinanzi ad un Morrington, innamorati più che mai.